Stefano De Martino e Antonella Clerici si uniscono per la prima volta sul palco di un grande evento televisivo. Lunedì 23 dicembre. Le due condurano su Rai One, un'imperdibile serata in diretta dagli studi. Rai di Milano, un mix di tradizione. Musica, spettacolo e cultura. In occasione dell'inizio dell'anno santo, 23. Ospiti speciali della serata saranno Gianni Morandi e Alberto Angela, che interverrà in collegamento dalla Basilica dei Santi Cosma e Damiano a Roma per raccontare la storia di un celebre presse pesettesientesco donato dalla famiglia Cataldo. Recentemente, Antonella Clerici ha espresso il suo apprezzamento per De Martino definendolo un conduttore straordinario durante il suo programma. Sempre mezzogiorno. Sta prendendo in mano il suo show con grande capacità, ha affermato. Lo tifo sempre perché è davvero bravo. In un'intervista precedente alla Repubblica. La Clerici aveva aggiunto Mi piace Stefano De Martino. Lo trovo competente ad affari tuo. Già gli manca solo un po' più di naturalezza. Ma quel gioco è davvero impegnativo. Già gli manca solo un po' più di naturalezza. La Clerici aveva aggiunto